Ci sono domande prima che proseguo? In console, Vincent, DJ E' incorreggibile Non ci sono costrizioni, non ci sono iuti Sorprendetemi, sfidatemi, provocatemi Sfidate voi stessi Non ce la faccio più Io, 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 quando lui mi fa dicere, io gli fa dicere, dico 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 Vi è dato di scegliere Potete essere dimenticati o potete essere ricordati Come quei pochi eletti che ce l'hanno fatta Perché io sono una mua Tesoro, ho come faccio a dire in due minuti quello che mi ci è voluto tutta una vita comprendere